Tragedia alle porte di Santa Croce sull'Arno. Un uomo di 74 anni è stato travolto dalla moto zappa con la quale stava arando il suo campo, perdendo così la vita. Una dinamica ancora da chiarire in tutti i dettagli, poiché l'uomo era da solo al momento dell'incidente avvenuto intorno all'ora di pranzo, poco lontano dal centro abitato. I soccorsi sono arrivati nel tratto più a nord di via Donica, mentre dalla sala operativa veniva allertato il Pegaso. Sul posto è intervenuta la misericordia di Santa Croce con un'ambulanza oltre all'automedica. La gravità delle condizioni però ha reso necessario l'arrivo dell'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelfranco di sotto, oltre a un esponente della giunta comunale. La situazione è apparsa subito gravissima ma è peggiorata con il passare dei minuti e i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. Questo è il secondo caso di decesso dovuto ad un incidente con mezzi agricoli in poche ore. A Montecatini è stato un 69enne a perdere la vita per lo stesso motivo schiacciato dalla moto zappa contro la propria abitazione e dall'inizio dell'anno i casi in Toscana sono già numerosi.